Siamo nella grotta del sale, la chiamiamo così, in questa struttura oasi del sale qui a Raguse in via Montecengio. A spiegarci, a introdurci in questo mondo il dottor Carmelo Impera, psicologo e psicoterapeuta. Bene, sono contento di essere qui in questo luogo di salute, di serenità, non solo di bellezza ma anche direi di bellezza dell'anima perché oggi abbiamo bisogno di stare bene. E una mente sana come ci insegnavano i nostri padri può albergare solo in un corpo sano. Ecco questo è un luogo che aiuta il corpo e la mente perché qui si respira meglio, si vive meglio e ci si rilassa. E' un luogo profetico direi, uno dei primi in Sicilia che quindi consiglio di visitare, consiglio di frequentare. Non è solo per i bambini come la gente pensa, questo è un luogo che serve a tutti, è un luogo che può servire agli adulti, è un luogo che può servire alle coppie. E' un centro benessere per respirare bene, per vivere bene, per ritrovarsi con se stessi. Ha una doppia funzione, una funzione aiuta diciamo la mente, lo spirito ma aiuta anche il corpo perché ci sono dei benefici anche dal punto di vista fisico con questo respirare il sale, vivere in questo ambiente. Sì, aiuta a tutti i livelli, aiuta a livello cardiocircolatorio, a livello respiratorio, a livello epidermico, tiroideo, aiuta in un sacco di dimensioni della persona, cioè a livello fisico. Ma aiuta anche a livello psichico, ecco perché in pochi minuti è come una seduta benessere su tutte le funzionalità dell'organismo umano. Per questo lo definivo prima profetico e c'è bisogno di posti così, di luoghi dove proprio poter vivere serenamente un contatto col proprio corpo, riappropriarsene del proprio corpo. Allora possiamo dire che a Ragusa siamo fortunati di poter disporre di una struttura del genere visto che, come ha detto lei, non ce ne sono in Sicilia o ce ne sono pochissime? Sì, ce ne sono pochissime a Ragusa in assoluto, questa è la prima, ma io penso che nelle nostre province, tra Siracusa, che io sappia che è il primo centro di alloterapia e quindi consiglio veramente alla gente quantomeno di provare. Fra l'altro so che organizzano qui dei pacchetti interessanti proprio per chi vuole fare la prima seduta, per chi vuole iniziare questo percorso, anche gratuito addirittura per poterlo provare. Ecco perché, ripeto, lo consiglio a tutti e a dir la verità adesso ci faccio un pensierino pure io visto che mi trovo qui. Bene, ci troviamo in una stanza particolarissima all'interno del sale, diciamo, è tutta ricoperta di sale. Cosa fate voi signore in questa stanza? Allora io vengo qui per fare far terapia ai miei figli, una perché ha problemi di sinusite, adenotonsillare e un'altra perché ha un anno e mezzo che ha la tosse e abbiamo provato tutte le cure di questo mondo e non siamo riusciti a debellarla. Ha fatto ancora solo tre sedute e sono sincera, sin dalla prima ha avuto dei miglioramenti. Per il momento non mi posso lamentare, diciamo che abbiamo dei benefici fisici, li vediamo tranquillamente. Tra l'altro lei gioca, guarda la televisione, quindi per lei è una cosa naturale stare in questa stanza e nello stesso tempo... Rilassante, sì, rilassante perché quando ci sono i bambini ci sono i cartoni animati, l'adulto può ascoltare la musica, le luci soffuse, per chi si può rilassare senza bambini è perfetto anche. Infatti anche lei ne approfitta di quei, anche lei partecipa a queste sedute sperando di avere anche lei un beneficio. Sicuramente, anche perché pure io ho problemi un po' di sinusite, di respirazione e quindi con la scusa di loro curo me stessa. Quindi anche in pieno inverno uno senza andare a mare può usufrire dei benefici dell'area di mare, diciamo così, perché si trova in una stanza coperta di sale. Sì, e respiriamo sale, non fa male, giustamente come ha detto poc'anzi lei, dovremmo avere dei benefici. Bene, anche lei quindi fa questa terapia? Sì, per me è la seconda volta, perché già l'anno scorso ho provato il primo pacchetto, devo dire che mi sono trovata bene. Perché ho deciso di fare queste sedute, questa terapia del sale, sarà forse perché da un po' di anni mi sento di essere proprio debole di difesa immunitaria. E allora praticamente nel primo anno, quando mi è stata proposta questa terapia del sale, è chiaro che l'effetto non lo fa subito, però mi sento diversa, perché a livello respiratorio, a livello asmatico, mi sento più rafforzata. Benissimo, sentiamo la bambina. Allora, tu ti trovi bene qua, ti diverti in questa sala? Sì. Sì, e ti fa poi anche bene, giusto? Sì. E cosa ti piace fare qua di solito? Mi piace giocare con il sale, come se fosse la sabbia, e mi piace guardare la tv, sedermi sulle sedie.